Io ho aperto, lei lo sa, prima il libro assolutamente a caso e la prima frase che ho incrociato è stata Renzi non mi è mai stato simpatico. Sì, no è vero, innanzitutto credo che la cosa sia assolutamente reciproca e racconto anche un piccolo episodio che quando lui ebbe la fiducia al Senato, tra l'altro lo dico nel libro, ci incontrammo in transatlantico e lui mi diede la mano e mi disse saluto il mio nemico di fiducia, io avevo appena votato la fiducia, che era una battuta perché poi su questo invece è molto bravo e io sorrisi ma non smentirei. Invece c'è un altro titolo oggi.